Come è andato questo incontro con il sindaco e il progetto? Lo penso abbastanza bene, abbiamo dato una scadenza per poter perfezionare meglio gli aspetti tecnici fino a ottobre, penso che l'amministrazione comunale abbia capito la serietà e soprattutto la meticolosità con cui noi abbiamo affrontato il problema, cercando di salvaguardare quelle di rispetto a tutti quelli che sono gli aspetti normativi e soprattutto l'aspetto, come dire, architettonico dello Stato di Palamini, quindi è stato favorevolmente impressionato il sindaco da questo punto di vista, ha detto che ha apprezzato il lavoro che abbiamo portato avanti che ha tutela sia dalla salvaguardia che per lo spirito architettonico del bene e soprattutto anche per la prospettiva futura cioè noi dobbiamo coniugare la possibilità di salvaguardare l'aspetto architettonico con la fruibilità effettiva che necessitano perché altrimenti facciamo una carterraia di servono. Perché ce lo racconta? Come farete a aumentare i posti? Salvaguardano la struttura? Salvaguardano la struttura perché viene fatta una struttura a fianco di schede salvaguardata la vecchia a sud. Adesso c'è tutto un sistema con le procedure architettoniche di Nervi, quindi non a caso nello nostro staff abbiamo paradossalmente, quindi per sparire di chi viene, con quanta serietà abbiamo affrontato il problema. Siamo andati a prendere l'attuale responsabile dell'Università La Sapienza che ha preso la cartella di Mucineri, abbiamo un componente della famiglia Nervi all'interno del mondo dello staff, lo spesso da suo gradimento, lo spesso da suo gradimento, quindi stiamo affrontando con molta serietà e abbiamo trovato un'amministrazione molto attenta e molto, come dire, hanno capito che non è un lavoro così fino a se stesso, ma è un lavoro che porterà dei risultati e che affronta in modo serio tutte le problematiche per rendere il Flaminio fruibile, sicuramente con una esperienza di circa 50.000 spettatori e che sia nello stesso tempo salvaguardato l'aspetto architettonico. Non è che riesce a farci vedere qualcosa, questo remb è famoso, hanno visto in tanti? In tanti, direi. Eh beh, tanti dicono di averlo visto, ora ha visto anche il sindaco, l'assessore. Il sindaco è apprezzato almeno qui, non è che se usano il sindaco, non è che scusate. Eh beh, così lo fa vedere i cittadini umani. Ma no, ma i cittadini umani devono vedere il progetto, come dire, che viene fatto fino a ottobre, che viene presentato in modo tale che c'è un progetto, perché altrimenti iniziano, come dire, le considerazioni sbagliate, come in tutte le cose, no? Noi presentiamo il progetto... Ma non c'è una percentuale d'accordo, l'accordo. Il sindaco ha visto che l'attività che noi abbiamo svolto, è un lavoro che tiene conto, sia, l'ho detto, l'aspetto architettonico, sia... C'è fiducia, diciamo. C'è fiducia, da parte anche dell'amministrazione, noi presentiamo poi un progetto, diciamo, cosiddetto di fattibilità, di fattibilità, di prefattibilità, un progetto di fattibilità che rappresenta quelli che sono gli interessi, sia della collettività, sia del rispetto delle norme, sia dell'amministrazione, sia della lancia per poter svolgere l'attività che svolge. Deve essere un punto di richiamo e di riferimento di tutto il quartiere, quindi non è una cosa che vivrà 365 giorni all'anno, quindi con una logica di tutela sicuramente da sotto i vari punti di vista dell'ambiente. Temo è la concorrenza, c'è già un progetto depositato, ora c'è questo della Lazio e poi ci dovrebbe essere il terzo progetto della Cassa Depositi e Presti, lei pensa di essere in vantaggio? Io ho presentato un progetto che penso abbia lo spirito giusto per poter in qualche maniera essere apprezzato, soprattutto se non altro il Flaminio era la casa della Lazio, quindi stiamo ridando la casa ai naziani, però io vorrei che questa struttura fosse al servizio dell'intera comunità e quindi a questo punto verrà utilizzata anche per altre attività di carattere non solo sportive ma anche per altre lunghe, di varia natura come punto di aggregazione del museo. Siamo nel dettaglio, prima costruisce la casa e poi costruisce le cose come di vita la casa. Ma questo è anche progetto per la polisportiva. noi stiamo facendo un progetto che tiene conto, prima di tutto, salvaguardi quelli che sono quattro principi. Il primo principio è l'attitettura dell'era, che è la cosa più importante. Secondo, la fruibilità, perché se faccio una cosa che non è fruibile e quindi portarle a una capienza che sia compatibile con quelle che sono le norme sportive di carattere dell'opera. Terzo, che sia un centro di aggregazione per l'intero quartiere, per la città, per il punto di riferimento e che tenga conto di quello che è l'ambiente perché altrimenti non vogliamo fare né strappi né situazioni che vanno a impattare. Noi stiamo cercando di ricucire una situazione con lo stesso criterio, che era il criterio, ecco diciamo che Ennervi, mi perdoni questa similitudine, Ennervi che oggi fa l'ampliamento del suo status. Quanto potrà costare il nostro divalanzio? C'è stata un'idea. Da 250 milioni in su. Ci saranno altri finanziatori insieme a me? Non c'è nessun finanziario, noi le cose le facciamo, noi non vendiamo sogni ma soli in realtà, già l'ho detto oggi. E lo che abbiamo fatto, l'abbiamo sempre fatto. Abbiamo la possibilità di poterlo realizzare. Alla riunione c'era anche la sovrintendenza, avuto modo di vedere il progetto? Allora, noi oggi siamo a protetipi perché non siamo venuti, come si dice, all'improvviso extra brutto di riportativi, all'improvviso qui. Noi abbiamo fatto già un giro di riportazione spiegando quelli che sono i nostri intendimenti, le nostre espluzioni. Adesso dobbiamo tradurre in forma concreta e definitiva come prende la norma sullo studio di ripartibilità. Abbiamo fatto vedere come è uno studio di ripartibilità, come viene lo stadio, e poi scenderemo nei dettagli, come in tutte le cose. La spaventa quello che sta accadendo e il percatore in passato per lo stadio della Roma? I rallentamenti da adesso, lo stadio non si è più fatto? O pensi sia normale? No, guardi, io non penso ne che sia normale. Il leader degli altri stati della Roma non mi conosco, io conosco il mio leader. Io, proprio per evitare che ci possa essere incidenti di percorso, dettagli soprattutto anche da comportamenti magari di persone che fanno fuga in avanti, io ho evitato di fare qualsiasi considerazione e di prospettare qualsiasi cosa che venga considerata definitiva. Io, nel momento in cui presenterò il progetto di prefattibilità, significa che sarà stato già recepito a grandi linee da quelli che saranno gli ordini della proposta. E se verrà bocciato questo progetto di prefattibilità? Questo è quello che fa essere bocciato se ti dico che ho già fatto una riconosione informale. Poi dopo di che ci possa... Quindi è certo che il Flaminio... No, ma io non c'è... No, scusi, un'altra cosa. Parliamo dello studio architettonico. Poi altri temi sono di altra natura, quindi non so. Io dico soltanto che il Comune ha ricevuto positivamente questa nostra iniziativa. Punto. Non è che ha preso impegni dicendo... Perché il Comune oggi ha, come lei ha detto, ci sono altre ipotesi di lavoro, no? Ecco, noi abbiamo presentato la nostra ipotesi di lavoro che riteniamo sia la più calzante nell'interesse della collettività, nell'interesse della città, nell'interesse, diciamo, dello sport, nell'interesse del mondo. Punto. Questo abbiamo fatto. Ma non ci sono messi in competizione. Abbiamo fatto questo progetto. L'abbiamo fatto convinti che vi aver dato una risposta concreta alla soluzione del problema. Perché lì ci sono una serie di problemi. La tenuta del cemento armato. E non a caso noi abbiamo un'università che sta facendo uno studio approfondito proprio per questo, no? Su tutta la serie di parametri che sono fondamentali. Perché se il cemento armato non tiene, e lo stadio fra vent'anni cade, cioè... Questo è il problema che noi affrontiamo prima. Meglio prevenire che il curante, no? Che si è azionato, ma fa una cosa a lunga città. Non è che possiamo pensare a fare lo stadio per 20 anni, no? Perché noi abbiamo perso tempo tutti. Presidente, chi può fare un punto sulla questione immobili? Oggi si parla tanto di questa offerta in Turchia. Ma lo sta dicendo lei? Io non la conosco. In Turchia sono sicuri che è fatta immobile al Besiktas? Vuol dire qualcosa? E io però, scusi, iniziamo su una cosa. Come quello, se sposa con una persona io non conosco la sposa. Non lo so, beh. Io lo dico con tutta onestà, eh. Io non ricevo... Io, personalmente, la mia società non ha ricevuto nessuna offerta. Non ci sono stati incontri o colla neanche con Immobile? Guardi. Che si parla al giocatore che ha accettato l'offerta. Ma ci posso dire una cosa? Allora, il mio percorso. Immobile è un giocatore della Lazio. Giusto? Sì. Si è d'accordo? Bravissimo. Ha un contatto con la Lazio. La Lazio non ha ricevuto nessuna offerta. È la società che vuole acquisirlo. Quando riceverà un'offerta e acquisirlo lo valuterà. Ad oggi noi non abbiamo ricevuto nessuna offerta. Senta, un anno fa, proprio qui in Campidoglio, alla riunione degli albi, lei disse, la mia Lazio è costruire una Lazio che potrà competere con tutti. Non dico vinci lo scudetto, però potrà battere tutti. Sta progettando... No, battere non ho mai detto. Potrà competere, tentare di battere tutti. No, questo lo dicevo. Potrà competere. Va bene. Pensa di costruire una squadra allo stesso modo anche quest'anno o cambiare per questi costi? No, cambia nessuno per supporto. Allora, qui si fuggiamo un'altra volta per provare stamattina, ripeto, soprattutto per i colori che non hanno ascoltato. Allora, la Lazio, nessuno sta provando un ridimensionamento della solidarietà. Tutt'altro. Tutt'altro. Siamo, come dire, ristrutturando, che cosa? Un'organizzazione in modo diverso perché fare calcio oggi è diverso da farlo come si faceva 15 anni fa, 10 anni fa. Oggi c'è un calcio più fisico, più legato chiaramente alle potenzialità fisiche, più legato allo spirito del gruppo e un po' meno alle singole peculiarità dei singoli giocatori. Quindi questo comporta uno studio. Non a casa abbiamo preso un allenatore che valorizza chiaramente d'altro canto il calcio al gioco di squadra. Non è un gioco veramente individuale. Essendo un gioco di squadra bisogna allestire una squadra che sia competitiva e che lavori all'unisono per raggiungere gli obiettivi. Perché nel momento in cui ci sono delle discresie all'interno dello spogliatoio che determinano chiaramente non un'omogeneità di comportamento e soprattutto che determinano non un affiatamento, non un'unità di intenti, si possono creare delle condizioni come si sono create lo scorso anno che nonostante avessimo una squadra competitiva, lo dicono i fatti, abbiamo perso con società. Noi non stiamo andando in ciepia perché abbiamo perso con società che avevano o meno attrezzata di noi. Vi ricordo. Con la Serenitana che ha detto cesso, con il Lecce che sicuramente non ha detto cesso, con il Genova, con tutta la serie di squadre che potevamo evitare di venire. Fiducia con Baroni fa essere una squadra competitiva che si confronterà alla pari con tutti e cercherà di migliorare la posizione di quest'altro. Grazie ragazzi, scusate. Ci sono altri avverimenti a quanto riguarda la comunicazione, è una sorta di minaccia per tutti i colleghi per me. No, no, ma io non ho fatto le minacce, io non ho fatto minacce, ho fatto solo una concessione di restauratura e siccome tutti parlano di situazioni che senza conoscere nella portata, per esempio, dicono delle cifre che sono state spese che non corrispondono alla realtà, perché se lei va in un negozio, compra un bene, quel bene ha un valore complessivo che comprende pure l'Ivano. Allora, gli ho spiegato a queste persone, ai vostri colleghi, che probabilmente non conoscono a fare un po' di ripetizioni di minacce, dove io gli ho spiegato che se tu compri un giocatore all'estero non è gravato diva, se lo compri in Italia è gravato diva, quindi il costo, diciamo, l'esborso che tu vai a fare sarà, se costa il giocatore, ad esempio faccio un discorso, 20 milioni, non sarà 20 milioni, 20 milioni più l'IVA al 22%, poi in più le commissioni, quindi gli ho spiegato che noi abbiamo speso 40 milioni, qualcuno ha detto no, ha speso 30, allora come 30? La madre me ne ha un'opinione, se era 15, più il 22%, quanto fa? Sono 18, ero 8, eccetera, più le commissioni, 20 milioni. La madre me ne ha un'opinione, allora gli ho spiegato che avevano sbagliato a fare i conti, se tu lo compri all'estero, l'IVA non è, non c'è, quindi non la devi sborsare. Siccome tu quando fai un acquisto nel campionato italiano devi depositare il contratto col valore complessivo alla Lega Calcio, devi metti i soldi complessivi. Però lei ha proprio detto che cambieranno le cose? No, alla luce di questo ho detto, siamo, cosa che nessuno ha visto, adesso lo vedete, lo vedranno, abbiamo allestito una nuova comunicazione con uno studio radioforico da altissimo livello, mi pare oggi si è andato già in onda il primo giorno, con due studi televisivi, lo vedrete adesso, anche con ospitali, così ospiteremo 25 persone, diventa una cosa bella, ma soprattutto con una logica dove la comunicazione la faremo noi e diremo come stanno le cose, perché voi parlate di cose che non conoscete, perché se aveste visto tutti gli investimenti che sono stati fatti da là, se avessi avessi parlato... Ma il contratto esiste nel momento in cui parti della conoscenza dei fatti, se tu i fatti non li conosci, parli... Scusa, il collega diceva anche vendite, acquisti... Ah no, ma questo non c'è da niente... Scusa, no, ma no, scusate, scusate... Allora, io ho detto, ho speso, ho speso... Poi scusa, la probabilità di questi soldi possono derivare da esborso personale, da ricavi, da esposolazioni, da gestione, quella è un'altra cosa, e d'altro compagno, ho detto, ho un delta negativo, ho speso 101 milioni, era ripeto lo scorso anno di rispetto a quello che ho incassato, allora io devo tenere ragione, quello si chiama un gap, si chiama un delta negativo, io ho detto, ho speso quella cifra, poi lui mi ha fatto il conto di Milinkic, io gli ho spiegato, Milinkic è stato fatto pubblico, perché la Lancia è una società quotata, quindi porta e riporta 40 milioni, ha incassato 20 milioni, e l'altra metrata ci arriva ancora a incassare, l'incasserà, auguriamoci che c'è la casa, perché siamo venuti, speriamo, no? Di che parliamo? Non siamo parlati nulla, e quest'anno abbiamo speso 40 milioni, perché noi abbiamo deputato i contratti che pagano quella cifra, quindi quello è l'impegno. Poi se lo dico, vincere le lotte, stavo dicendo apposta per far rire, vincere le lotte, e in casa 200 milioni, 200 meno quello, ma quella non c'entra niente, no? Non è che io vado, scusi, io dico quanto ho speso, e quanto ho speso, nel caso dell'Italia, bisogna aggiungerci il 22%, e quello è una spesa. Grazie a tutti.